Scade domani, 26 gennaio, alle ore 14, la possibilità di inoltrare domanda di candidatura per un posto da operatore nel Servizio Civile Universale. Un servizio destinato a giovani fra 18 e 28 anni che a fronte di un compenso di 444 euro mensili si impegneranno in progetti di un anno con produttivi risvolti sociali verso la comunità. Però alla vigilia del termine del bando restano ancora diversi posti disponibili fra i 36 presenti in enti e associazioni del Pesarese. Si tratta di un'opportunità importante non solo nella filosofia della cittadinanza attiva ma anche nei risvolti occupazionali. Eppure c'è carenza di candidature e più che stilare graduatore ci si sta affannando nell'invitare a riempire buchi su mansioni di cui concretamente necessitano le associazioni. Si può infatti essere utili col Servizio Civile nelle maniere più variegate. Ad esempio ci sono nove posti messi a disposizione dal comune di Pesaro, sette in percorsi sociali di inclusione e altri due dedicati a verde e riqualificazioni ambientali. Oppure si può essere utili alla Onlus Gulliver e i suoi progetti che spaziano dal centro del riuso all'assistenza in periodo pandemico. Sei anche gli operatori richiesti per le esigenze dell'Unione Italiana Cechi per assistere i non vedenti in percorsi di autonomia, altrettanti per quel che riguarda l'assistenza all'Aism, associazione che cura malati di sclerosi multipla. E poi altri posti nelle ACLI per attività dedicate a anziani e fasce adolescenziali, così come posti della CNA per assistenza digitale agli anziani. Oppure anche 12 posti nelle proloco della provincia per partecipare all'organizzazione di manifestazioni pubbliche. Insomma, davvero tante opportunità, ma siamo agli ultimi rintocchi di lancette per aderire attraverso la piattaforma serviziocivile.it.